Abbiamo terminato di sì, grazie. Vi propongo questo pezzo che è un tanto pensiero carino, un omaggio alla grandissima Janice Joplin. L'ho voluta chiamare, perché sono le proprie di esperienza. Lei si rimorge all'interno, come me, incazzata nera, dicendo ti sei portato via tutti gli amici miei, prendete la televisione, che tanto chi la guarda. Se vuoi prendete pure il frigorifero, guarda, prende anche la Janice, che se è il primo, vaffanculo. E quindi, ricordando lei, anch'io l'ho chiamata Mercedes Benz, però chiedendo al tuo governo se mi regalava Mercedes, se non mi regalava, ma chi me la regalava? Grazie a tutti. Grazie. 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 La conversione e il cambio del favore Ma dammi una risposta stasera Sai che sono sincera qui Ad aspettare Oddio e la torre stasera Dopo una vita intera Ancora qui ad aspettare Questa merce del pezzo La mia merce del pezzo Così quanti miei amici Guidano il Porsche Carino per i tuoi soldi Al resto dei miei giorni Ma dammi una risposta stasera Sai che sono sincera qui Ad aspettare Oddio e la torre stasera Dopo una vita intera I'm gonna win Ad aspettare Oddio e la torre stasera 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 Quanto ne avresti chieste 12? Chieste una, una, una per c'è la spesa Quanto ne avresti chieste una, una per c'è la spesa Quanto ne avresti chieste una, una per c'è la spesa Quanto ne avresti chieste una, una per c'è la spesa Quanto ne avresti chieste una, una per c'è la spesa